in questo video tutorial andiamo a vedere come compilare la domanda nella piattaforma concorso e procedure selettive riferita alla procedura selettiva internalizzazione ex lsu 2023 cioè un bando di 540 posti per collaboratore scolastico questa procedura avrà tempo per essere compilata fino alle 23 e 59 dell'otto settembre 2023 per una volta entrate appunto nella piattaforma concorso e procedure selettive come già visto nel video tutorial numero uno andando alla compilazione la domanda della procedura selettiva internalizzazione servizi ex lsu 2023 si va appunto in una pagina dove c'è tutta l'informativa riferita ai dati personali al trattamento dei dati personali e dei consigli eventuali anche per le domande di reclamo facendo avanti entriamo nella pagina in cui si può selezionare la provincia ma prima della provincia la regione in cui voler fare domanda secondo un elenco di posti già disponibili e messo nel bando di questa procedura di questa procedura selettiva andiamo a scegliere per esempio la lombardia si illumina proprio la regione lombardia e subito sotto si dà la possibilità di scegliere una delle province della lombardia e la lombardia in cui ci sono i posti vacanti per esempio monza o della brianza oppure mantua sondrio facciamo per esempio la provincia di sondrio una volta fatto questo e si va a confermare facendo ancora avanti e queste scelte facendo avanti si conferma diciamo la ha bisogna prima della conferma del fare avanti fare alcune dichiarazioni obbligatorie si dichiara appena dell'esclusione che la provincia selezionata è quella in cui si è svolto l'attività e dunque si è scelta la provincia di sondrio perché in questo caso in specie il soggetto che va a fare la domanda aveva prestato l'attività lavorativa entro il 29 febbraio 2020 nella provincia di sondrio poi e dunque c'è l'obbligo di scegliere quella provincia poi si dichiara di aver svolto dal 2000 per almeno cinque anni anche non continuativi nei quali però sono inclusi il 2018 e il 2019 presso le istituzioni scolastiche ed educative il servizio come in qualità a tempo determinato o indeterminato per le imprese titolari di contratti con lo svolgimento dei servizi da collaboratore scolastico per le pulizie e dunque bisogna fare anche questa dichiarazione poi si deve dichiarare il possesso del diploma almeno della scuola di primo grado e poi di non essere inseriti in queste gradatorie per esempio nella gradatoria del decreto legge numero 69 del 2013 che all'articolo 58 comma 5 ter dava la possibilità a chi apparteneva a queste ditte di impresa di pulizie e aveva i requisiti di entro l'uno marzo 2020 di inserirsi in tali gradatori chi è inserito in questa gradatoria per l'inserimento punto lo scivolamento dell'inserimento il ruolo non può fare domanda come anche non può fare domanda chi chi è inserito nella gradatoria dell'articolo 1 comma 622 della legge di bilancio del 2018 perché costoro sono o quelli della provincia di palermo e dell'ufficio scolastico di palermo che hanno avuto un inserimento in gradatoria per l'inserimento il ruolo e quindi non possono partecipare come non può partecipare anche chi è inserito sempre nello stesso nella stessa legge del 69 del 2013 nella seconda tornata di inserimenti in ruolo della del decreto legge per cui costoro non possono partecipare poi deve dichiarare di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico di non essere destinatario di sanzioni interdittive dall'esercizio di attività di non essere destinato dispensato dal servizio della pubblica amministrazione di non aver riportato condanne penali per reati di cui all'articolo 73 e dunque di non avere procedimenti penali in atto dichiara di non aver riportato nessuna condanna penale per reati che costituiscono un impedimento sull'assunzione della pubblica amministrazione detto questo fate queste dichiarazioni il l'aspirante al ruolo ex lsu può fare avanti ed entrare nella sede nel nella pagina dove sono inseriti o dovranno essere inseriti tutti i suoi dati personali una volta inseriti tutti i dati personali e fatto di nuovo avanti si entra nella compilazione delle sezioni ci sono dei campi obbligatori per esempio il titolo del culturale è il primo campo e per cui bisogna selezionare un titolo per esempio chi ha il diploma solo il diploma delle della licenza media della secondaria primo grado farà la 1 chi ha invece il diploma di scuola secondaria secondo grado fra a 2 e a 3 chi invece al diploma di qualifica triennale e successiva al diploma della scuola secondaria di primo grado a 2 facciamo il caso a 3 e dunque si fa aggiungi e chiede una serie di informazioni sul tipo di istruzione per esempio facciamo un'istruzione statale diamo la denominazione della istituzione scolastica per esempio liceo scientifico scorsa o senza diminuzione del titolo del titolo di studio diploma di liceo scientifico la data di conseguimento per esempio una data che risale al 1988 luglio 20 luglio 1988 e selezionare per indicare il titolo qui in questo caso non c'è bisogno il suggerimento nel caso in cui si ricordi il giorno e il mese e indicare 30 secco questo nel caso in cui non ci fosse precisa data precisa del conseguimento ecco in questo caso fatta questa cosa si fa salva e diciamo il titolo culturale è inserito con successo poi è obbligatorio inserire anche i titoli di servizio come obbligatorio sono anche le altre dichiarazioni dunque per inserire i titoli di servizio ricordiamo che tipi di servizio può essere stato prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico nelle scuole statali servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico nelle scuole non statali ecco facciamo il b1 aggiungiamo e qui bisogna inserire il periodo il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico nelle scuole statali e indicare e indicare questo il luogo comprensivo di indirizzo cap comune provincia presso il quale è stato svolto il servizio è obbligatorio inserire almeno cinque anni complessivi di servizio di titolo appunto b3 con contratto a tempo indeterminato determinato comprensivi di almeno gli anni 2018 2019 cioè il servizio b3 ricordiamo che il servizio prestato dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche a seguito i contratti di appalto concernenti vedete ecco dunque cliccare questo concernenti diciamo i contratti con le imprese perché è un dato essenziale per indicare il titolo di servizio e comunque complica compilata quest'area compilata quest'area e dunque accreditata quest'area ricordate che dovete obbligatoriamente fare le altre dichiarazioni e dunque indicare il titolo di cittadinanza e dire che siete cittadini italiani indicare i diritti politici e di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza o di provenienza di essere iscritta nelle liste elettorale il comune per esempio di cosenza di ancora aver assolto all'obbligo militare di non avere procedimenti penali in corso di non avere in corso procedimenti amministrativi per la applicazione misure di sicurezza di prevenzione di non avere condanne penali poi se sia la 104 si indica 104 di avere l'identità fisica e chiaro e l'utilizzo dei dati personali per la presa visione e questo può consentire ancora di salvare la domanda e poi di inserire anche gli allegati dichiaro di aver allegato la fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale nei documenti qui si fa in file pdf zippato fino a un massimo di 5 megabyte inserendo pure questo allegato e avendo ricordiamo fatto tutti i campi obbligatori si può fare il tasto inoltre appena inoltre la domanda speriamo che questo video tutorial sia utile a tutti i nostri telespettatori un saluto da luce fiscale luce fiscale